Musica Un punto d'incontro di energie, sperimentazioni, nuovi saperi, nuove tecnologie. E questa è la due giorni che si è svolta la Scuola Superiore Sant'Anna promossa da Corepla, il consorzio che lavora nel campo del recupero della plastica. E' promossa da Corepla in collaborazione appunto con la scuola che da tempo opera nel settore, una due giorni che serve per sviluppare nuove idee, nuovi progetti in questo campo anche a beneficio di un futuro più sostenibile del nostro paese. Ai nostri microfoni il presidente di Corepla, Antonello Ciotti. Intanto queste due giornate perché sono state organizzate? Queste due giornate della ricerca sono state organizzate per spostare il dibattito dal punto di vista ideologico a un dibattito tecnologico. Perché? Perché noi dobbiamo cercare di coniugare la crescita del settore industriale italiano con gli obiettivi di sostenibilità che ci vengono posti dalla comunità europea. Questi obiettivi sono estremamente onerosi e richiedono un cambio epocale sia nei comportamenti del consumatore ma sia nel comportamento dell'industria. Qui noi portiamo avanti il discorso iniziato l'anno scorso a Palermo e abbiamo anche degli esempi di come idee lanciate allora oggi possono essere rese vive dal punto di vista industriale. Una di queste idee riguarda la trasformazione del PET cioè della plastica utilizzata per le bottiglie affinché una volta raccolto e riciclato possa diventare materia prima per formare altre bottiglie di plastica. Per cui chiudiamo in questo modo il concetto di economia circolare. Ecco ci sono dei dati importanti a livello nazionale? I dati di Correpa a livello nazionale sono estremamente importanti perché pongono il nostro paese tra il livello dei maggiori paesi virtuosi a livello europeo. Nel senso siamo partiti nel 1998 con 2 kg per abitante medio anno di raccolta e quest'anno abbiamo superato i 20 kg. La Toscana è tra le regioni più virtuose perché la media annua per abitante è di oltre 21 kg per cui siamo un po' all'avanguardia. Quello che è importante capire è che dietro Correpa c'è un indotto economico di 6.000 addetti che lavora e che produce reddito, produce nuove materie prime per un paese come il nostro che ha bisogno di posti di lavoro e di materie prime. Correpa tramite il sistema dell'accordo con i comuni contribuisce ogni anno alla raccolta differenziata. Nel 2018 la totalità del supporto che Correpa ha dato ai comuni ha superato i 350 milioni di euro per cui una piccola finanziaria che è tornata ai comuni per sostenere la raccolta differenziata. È chiaro che la raccolta differenziata non può partire se il consumatore non si mette lui attore di questo nuovo modo di gestire i rifiuti in modo da trasformare i rifiuti in risorse. Come abbiamo detto le due giornate sono organizzate in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna che tra l'altro le ospita e che da ben 26 anni ha un master, un corso in gestione e controllo dell'ambiente diretto dal professor Marco Frey. Ma insomma sono tante le attività che in questo settore svolgete. Sì, il master da un po' di anni è sull'economia circolare, tra l'altro i ragazzi del master hanno partecipato attivamente a queste due giornate, sono in una sala a latere perché non c'era abbastanza posto, ma comunque la scuola su questi temi dell'economia circolare fa tantissimi progetti, alcuni sono stati presentati in queste giornate, per esempio quello Blue Resolution legato al riciclo delle plastiche utilizzando anche i robot nell'ambito del contesto territoriale nostro perché sono nella zona della secca della Melovia. Abbiamo progetti con almeno quattro diverse camere di commercio, con quattro diverse associazioni industriali in tutta Italia, sempre sul tema dell'economia circolare, così come con altri consorsi di filiera. Perché? Perché il tema è che cerchiamo in tutti i modi di portare le nostre competenze, che sono interdisciplinari, ovviamente con una caratterizzazione sulle discipline economico-manageriali, rispetto a questo cambiamento complessivo che l'economia circolare richiede. Cambiano i modelli di business delle imprese e quindi capire come, utilizzando le esperienze che voi stessi avete descritto, come esemplificazioni di un cambiamento di mentalità. Cambiano i sistemi di governance con la necessità, per esempio, di incentivi che aiutino la spinta verso la materia rinnovabile. Ci sono stati per l'energia rinnovabile, ma in questo campo non ci sono. Cambiare le attitudini dei consumatori cittadini per capire effettivamente in che modo si può anche sollecitarne la responsabilizzazione che c'è. Noi abbiamo visto una risposta straordinaria in termini di raccolta differenziata. Ovviamente bisogna andare oltre, perché la raccolta differenziata è solo un pezzettino della fase finale del cambiamento degli stili di vita e di consumo che riguardano l'intero ciclo di vita. Per cui dobbiamo abituarci a conoscere i prodotti per scegliere quelli che effettivamente appartengono a queste logiche, ma anche comportarci nella nostra vita di tutti i giorni in determinati modi che poi consentono alla fine di ritrovare quell'equilibrio che oggi non c'è più. Se vogliamo evitare che ci sia plastica in mare, ciascuno deve dare il suo piccolo contributo. Il professor Frey ci ha ricordato di quanto il nostro mondo è sommerso dalla plastica e quanta plastica c'è nei mari. Antonio Protopapa è direttore di ricerca e sviluppo di Corepla. Ma cosa fa, cosa può fare e qual è il contributo di Corepla per evitare simili fenomeni? Beh, innanzitutto grazie alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica evitiamo che questi materiali rimangano nell'ambiente e vengono dispersi poi nei mari, nei fiumi o in altri posti. Questo è il primo punto. Secondo, l'importante è che poi una volta raccolti questi materiali vengano conferiti ad aziende che si occupano di riciclo, che permettono di riprodurre dei granuli per poterli poi utilizzare con materia prima o seconda. Ci sono ovviamente diversi esempi, ci sono diversi livelli di recupero. Uno dei più interessanti riguarda un materiale che viene utilizzato sia come plastica monouso per la produzione di piatti, bicchieri, stoviglie piuttosto che per i vasetti di yogurt o altri contenitori, che è il polistirolo, che oggi viene recuperato da Corepla viene avviato a riciclo e viene riutilizzato nel ciclo di produzione. Un esperimento importante che stiamo portando avanti nella città di Parma è il progetto rivending, dove uno dei prodotti principali del monouso, che sono i bicchieri che vengono usati nel settore del vending, viene recuperato separatamente, avviato a riciclo e rimesso di nuovo nella produzione di bicchieri creando così una perfetta economia circolare. Un altro esempio può essere quello di Eni, che invece utilizza il Plasmix, quindi i prodotti della selezione di Corepla, che non possono essere riciclati meccanicamente e che invece possono essere attraverso un processo di gasificazione trasformati in idrogeno e essere riutilizzati all'interno della bierroaffineria. All'interno del convegno delle aziende di carattere nazionale come Equipolymers presentano dei progetti, dei progetti delle loro attività. Teresa Galardi, ce n'è uno nello specifico che vi sta molto a cuore. Certo, Equipolymers io direi che si può ritenere un leader, un pioniere nella sostenibilità. Infatti già dal 2009 Equipolymers è un produttore della plastica della bottiglia, il PET. Che cosa fa già dal 2009? Con uno studio di ricerca molto approfondito ha brevettato una tecnologia per inserire all'interno dei reattori la bottiglia di plastica che arriva dalla raccolta rifiuti. Quindi sostituisce alle materie prime di origine fossile un 10% di plastica che arriva dalla raccolta rifiuti. Si ha un vero e proprio riciclo chimico. Non c'è nessuna differenza tra una bottiglia di plastica fatta al 100% da materie prime di origine fossile e nessuna differenza tra quella fatta soltanto con il 90% e il 10% di plastica riciclata. Consci del successo di questa resina che si chiama Viridis per richiamare il verde dal latino stiamo ormai aumentando la percentuale di riciclato al 25% e alla fine di quest'anno lanciamo il Viridis 25. Cosa vi aspettate? Ci aspettiamo assolutamente un grande successo anche perché il riciclo chimico, lo sottolineiamo, aggiunto a quello meccanico raggiunge dei livelli, delle percentuali molto alti che superano addirittura gli obiettivi imposti dalla direttiva europea. Ci sono diverse aziende in Toscana che operano nel settore e che ovviamente lavorano oltre la Toscana e oltre l'Italia tra cui Idrotherm 2000, il gruppo Idrotherm 2000, Loredana Giannini all'interno di questo gruppo ma che cosa fate nello specifico? Beh, cose ne facciamo tante, produciamo tubazioni in materiale termoplastico per il convogliamento per rimanere nell'ambito del convegno di acqua. La nostra pertinenza deriva dal produrre tubazioni che hanno sicuramente delle caratteristiche prestazionali superiori a quelle normalmente in uso fino ad oggi, che tra l'altro hanno anche un'elevatissima percentuale di perdita nei confronti delle quali il nostro prodotto, ma non solo il nostro, le tubazioni in materiale termoplastico sono sicuramente vantaggiose perché non hanno perdite, resistono alla rottura, si possono installare in maniera estremamente più economica con un ridotto impatto ambientale. In più possiamo anche utilizzare materiali riciclati per determinate applicazioni che non sono al convogliamento dell'acqua. Raffaella Sartini è titolare di Idrotherm 2000, voi lavorate tantissimo nell'operazione di sostituzione di condotte idriche ma lavorate non tantissimo in Italia quanto all'estero, perché? Sì, il nostro fatturato è prevalentemente in Italia ma una buona fetta di fatturato, oltre il 40% è diretta all'estero, questo grazie all'ottenimento di varie certificazioni di prodotto, marchi di qualità che ci hanno permesso di esportare prodotti in altri paesi oltre all'Italia. Operiamo nel settore della produzione di tubazioni in materiale termoplastico, per acquedotti, fognature, gasdotti, eccetera. Il mercato estero sta crescendo molto, per noi è stato un grande vantaggio e in questo momento in cui in Italia non si stanno effettuando grandi sostituzioni delle reti idriche, abbiamo visto adesso al convegno, hanno presentato alcune diapositive in cui effettivamente lo stato delle nostre reti è effettivamente drammatico. Abbiamo necessità di forti investimenti da parte delle utility e quindi vedremo nel futuro cosa ci aspetterà per l'Italia. Alessandro Canovai è direttore generale di Revet, che è l'azienda toscana di riciclo della plastica. A margine del convegno non si fa che parlare del nuovo granulo che voi avete progettato e anche applicato in tanti progetti. Sì, è un'esperienza innovativa perché la ricerca e sviluppo nel nostro settore è fondamentale, come si ricorda anche al convegno. E quindi sin dall'anno scorso collaboriamo con un gruppo di architetti, sempre toscani, della zona di Capannori, che insieme a noi hanno messo a punto una tecnica di stampa 3D di questi granuli. Quindi potremmo dire che siamo tra i primi in Italia ad essere riusciti a fare la stampa 3D con un granulo proveniente dal riciclaggio meccanico, delle plastiche più difficili, quindi non quelle nobili come il PET o il polipropilene, ma misti poliolefinici, per intenderci tecnicamente, e quindi plastiche un po' più complesse. E dai nostri granuli abbiamo sviluppato questa tecnologia e finora l'applicazione è su manufatti prototipici, quindi si fanno dei prototipi o in applicazioni artistiche. Finora il vettore artistico è importante per noi per la comunicazione, ma la speranza è di arrivare poi a essere di supporto all'industria quando progettano componenti nuovi e quindi hanno bisogno prima di fare delle stampe, delle prove con materiali come il nostro. Quanto è importante per aziende come Revet o come altre in Toscana la ricerca? La ricerca in un settore ad alto valore tecnologico è determinante. La nostra è un'azienda non così grande ma neppure troppo piccola, e quindi abbiamo uno spazio per la ricerca non enorme però fondamentale. Reputiamo questo dipartimento della nostra azienda determinante per poter dare una risposta qualificata anche a chi ci ha affidato il compito di ben riciclare le plastiche che ogni giorno i nostri concittadini mettono nel giusto bidone della raccolta differenziata. È importante per tutte le aziende, ha detto che è più difficile per le piccole, ma si riesce a coniugare l'attività quotidiana con la ricerca anche in quelle di medie dimensioni? Sì, si riesce in una regione dove storicamente la ricerca e il sviluppo grande anche alle forti presenze qualificate delle università come quella che ci ospita oggi. Anche gli enti pubblici, in primis la regione, sono sempre state sensibili a sostenere i progetti di ricerca che ospichiamo che anche in un imminente futuro questa abitudine continui con soddisfazione. Ci sono anche fondi europei e statali qualificati come di supporto all'industria. È difficile perché soprattutto su quelli europei ci vuole un know-how espositivo che spesso le imprese italiane non hanno, ma noi per l'anno a venire abbiamo in mente di accedere a dei progetti anche sulla ricerca e sviluppo europei. Presente al convegno il professor Emo Chiellini è stato professore all'Università di Pisa. Il Nobel italiano per la chimica lei ha ricevuto e sta continuando a studiare la plastica come rinobilitarla, come riqualificarla e farle fare un ulteriore salto, renderla un prodotto ecocompatibile. Perché? Esatto, questo è quello che stiamo studiando presso il nostro laboratorio che abbiamo a Sicramini e Monte è un laboratorio di materiali polimerici ecocompatibili, è una start-up innovativa. Qui in questo laboratorio intendiamo ovviamente attraverso un processo di bioriconversione di riconvertire manufatti plastici di massa, di riconvertirli ovviamente a prodotti a valore aggiunto che siano ecocompatibili, biodegradabili e eventualmente compostabili. In particolare sono polidrossercanoati quelli che studiamo noi, sono poli esteri, quindi per cui questo è un pochino il nostro scopo. Attualmente stiamo preparando un progetto europeo proprio su questa problematica e quindi stiamo scrivendo brevetti. Ricordiamo la valenza di questo obiettivo. La valenza è molto importante perché chiaramente questi materiali di massa che vengono scartati, quindi vengono o riciclati meccanicamente oppure attraverso un processo ovviamente riconvertiti a energia oppure vengono abbandonati dall'ambiente, quindi parte di questi scarti qui noi lo vogliamo rinobilitare attraverso un processo di bioconversione dopo aver effettuato una degradazione ossidativa controllata di cui noi abbiamo ovviamente tutte le conoscenze. Grazie.